Palloncini bianchi azzurri, giovani in lacrime, tanti cuscini di fiori a forma di cuore, portati da familiari, parenti e amici. A centinaia hanno partecipato ai funerali di Dominic dell'Elce, il 22enne di Lanciano, rimasto vittima nell'incidente stradale avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsi sulla statale per San Vito Chietino. La barra bianca è stata adagiata sul sagrato della chiesa Madonna del Pozzo, qui Don Valerio ha celebrato le esequie. La parrocchia non avrebbe potuto contenere tutta la comunità di Villa Elce che si è stretta attorno al dolore di Papa Claudio, Mamma Rosanna, il fratello William e la sorella Maria Vittoria. «Buon viaggio, Do, ti ricorderemo sempre», recita uno degli striscioni apposti all'esterno della chiesa, dove si sono radunati tutti coloro che gli hanno voluto bene. Don Valerio ne è convinto, lo ha detto durante l'omelia. «Conoscevo Dominic, era un ragazzo educato, obbediente, sincero, era un lavoratore», ha detto ancora il parroco, ricordando l'ultima cena insieme in famiglia, due sere prima della tragedia. «Lavorava tutto il giorno, era stanco e i genitori insistevano per farlo riposare. Forse anche quel sabato notte era troppo stanco per uscire, ma lui amava la vita, stare con gli amici», dice ancora Don Valerio. «La sua esistenza è stata breve, ma ricca d'amore, lo ha dimostrato in famiglia e con gli amici. Ecco perché siamo tutti qui a dirgli addio».